La dove c'era il degrado nasce oggi a Tore del Greco un'area verde attrezzata, pensata per la cittadinanza, con alberi e panchine. Questa mattina il taglio del nastro nella zona della Santissima Trinità, nello specifico a salita annunciazione, nei pressi dell'area parcheggio di via Circonvallazione, uno spazio che per molto tempo era stato adibito a deposito ingombranti, viene oggi restituito alla città. Sindaco Mennella nasce stamattina qui a via Circonvallazione in un'area che era un deposito di ingombranti, invece uno spazio verde per anziani e bambini. È stato uno dei primi atti che ho fatto, abbiamo tolto tutto, abbiamo sistemato in un'altra parte e adesso abbiamo rimesso a nuovo questa parte che può essere occupata da anziani, da chi volesse, nella speranza che questi alberi crescono anche in modo più veloce per dare anche una copertura, si deve ancora finire. Vediamo se riusciamo anche più avanti a mettere delle giostrine, ovviamente ci stiamo immaginando un percorso. Abbiamo approvato una operazione di bilancio per il nuovo parco che sorgerà non più avanti di 500-600 metri, dove saranno allogate anche lì delle giostre, fra le due scuole Nazzaro Sauro e la scuola Domenico Morelli, un parco asservito alla cittadinanza, insomma continuiamo. Poi anche un'altra bella notizia che però non te la dico perché sarà oggetto dei prossimi anni, una bella cosa anche ancora per la città. Vabbè ma qualche anticipazione adesso ce la deve dare. Di una struttura che abbiamo acquisito e quando nel corso degli ultimi vent'anni tanti ci hanno provato e noi ci siamo riusciti. Siamo orgogliosi di restituire alla cittadinanza un'area verde con nuovi alberi, con nuove panchine, quindi un'area che non è più oggetto di degrado e laddove giaceva una discarica a cielo aperto, oggi grazie all'impegno del sindaco in primis della nostra amministrazione abbiamo restituito alla nostra cittadinanza un'ulteriore area in cui si può rilassare, in cui può leggere un libro ci sono le panchine e sono stati piantumati nuovi alberi. Diciamo che in questa città c'è bisogno di tanti spazi verdi. C'è bisogno di tanti spazi verdi perché gli alberi sono i nostri principali alleati nella lotta ai mutamenti climatici, nella lotta alla riduzione delle emissioni di CO2, quindi c'è bisogno e ce n'è tanto bisogno. Abbiamo riqualificato una zona che comunque era debita prima allo smistamento dei rifiuti, quindi l'abbiamo resa un parchetto pubblico dove in pratica quest'area può essere praticata dalla gente che vuole stare un po' all'aria aperta, quindi viversi il verde, le piante, respirare un po' di aria pulita in mezzo ad un caos di una città che comunque al momento sta avendo delle evoluzioni per il futuro di aree verdi e spazi pubblici e tutto il restante. La sera è anche illuminata? Basta assolutamente sì, ci sono i lampioni che comunque determinano tutta la zona, quindi è tutto illuminato e video sorvegliato ovviamente. Presenti alla cerimonia anche i cittadini e residenti della zona che hanno accolto con favore l'iniziativa. Stamattina nasce qui un'area verde, lei è una residente della zona? Sì, io abito un po' più avanti a via Cefalonia, quindi sono residente. E' contenta di questa iniziativa? Sì, sono contenta perché per me il sindaco veramente sta facendo del... Però purtroppo mi metto anche in mezzo, cioè il popolo dovrebbe essere anche lui più civile. Il suo appello è ai cittadini? Il mio appello è ai cittadini, anche un po' di civiltà, perché poi se vanno nelle parti di fuori non buttano le carte a terra. Di amare la propria città. Era soprattutto brutto a vedersi. Secondo aspetto era vicino a una realtà ecclesiale, qual è la chiesa della Santissima Annunziata. Terzo aspetto negativo era nelle vicinanze della zona dove purtroppo abbiamo avuto quel periodo dove si facevano le vaccinazioni. Adesso si è realizzato questo piccolo spazio che vedo anche fatto in un modo giusto e per bene. Io proporrei al sindaco, alla giunta, all'assessore, a chi è competente in materia di mettere magari anche una piccola buvette qua, nell'angolo lì, oppure qualcosa, un gelatino, una bibita fresca, proprio per rendere l'area ancora di più accogliente. Arriviamo a quest'altro punto che io voglio battere e precisare, perché è una vita che mi sto battendo per un benedetto teatro comunale a Torre del Greco. È stata promessa almeno, almeno negli ultimi 15-20 anni, da almeno una decina di volte, ma purtroppo c'è bisogno questa città di avere un teatro al chiuso, non grande, non grande, non serve la grandezza, serve la praticità. Proporrei al sindaco, alla giunta, all'assessore, a chi per esso, anche questa zona qua la potremmo utilizzare per fare un teatro all'aperto. È una zona questa, è onestamente, deve e può essere migliorata. Questa è la mia proposta. Io comunque tornerò alla carica su certi discorsi.